Amici Niter, amiche Niter, buongiorno a tutti e benvenuti nel terzo video della serie sui ferri circolari Oggi esamineremo i peggiori, subito dopo la sigla Valentina che cucerà lana, cucerà lana, cucerà lana Bene, come abbiamo detto anche negli altri due video, queste che ascolterete oggi sono delle opinioni assolutamente personali Non sono dei va de mecum, sono delle opinioni che mi sono fatta io lavorando da tanti anni e vedendo tanti prodotti diversi E ho pensato di creare questa serie di video Dopo aver esaminato i più famosi e i più costosi, i più belli, i più rari Oggi esamineremo i peggiori, perché ci sta anche quello, vero? Incominciamo subito con il peggio del peggio Ma poverini, non è che è colpa loro, ecco questa volta Questi sono i clover, li ho ordinati online e mi sono arrivati spezzati Quindi di questi non sono riuscita a fare una recensione sul campo, diciamo Li ho solo potuti esaminare e farmi un'idea così So che esistono in diversi tipi I pelli che volevo prendere in considerazione io erano intercambiabili ma non li ho trovati E quindi ho ripiegato sui ferri circolari fissi Questi qua che ho comprato sono in bambù Credo che sia la loro serie di punta Allora, come tipo di materiale devo dire la verità che non è malissimo, è bello liscio, è ok Pronto? Ciao, dimmi Mi sembra un'ottima idea a non venire a casa, sto videando Prendiamo in considerazione adesso, anche se sono rotti Come sono fatti, no? Perché non ho potuto lavorarli ovviamente E quindi la mia opinione è puramente empirica Così, su quello che posso vedere Allora, il materiale è piuttosto liscio E quindi, diciamo, il filato potrebbe anche scorrere abbastanza bene E purtroppo però l'innestro sul ferro ha questo scalino veramente sgradevole Sul quale sicuramente il filato si incastra E poi voi benedite tutti i santi del paradiso Inoltre, la punta non c'è Cioè, è spuntato, è tondo Quindi, l'utilità di sto ferro non si sa dov'è Meno male che sono rotti perché così li posso buttare via direttamente Passiamo avanti con questi meravigliosi boie Allora, questi meravigliosi boie Guardate già il ferro E ci ho lavorato, ho fatto il campione Poi l'ho rimesso dentro Ma è così ed è restato così Quindi, il cavo è assolutamente terrificante Non è brutto, è terrificante E questi che ho preso in considerazione io E che ho comprato io Sono quelli fissi E altrimenti si trovano anche intercambiabili Boie o Needle Master Cioè, sono le due nomenclature Credo che siano la stessa qualità Siano lo stesso prodotto Il cavo è veramente terrificante So che la mia amica Alice aveva cambiato le punte Che invece a lei piacciono Con degli altri cavi Non ricordo Cercherò di mettervi il link qua sotto E ovviamente come ho detto già negli altri video Non metterò il link dei prodotti Perché appunto non mi ricordo neanche dove li ho presi Tutti quanti Alcuni sono vecchi Altri li ho presi nuovi Ma non ricordo dove Quindi fate un po' una ricerca online E recuperateli dove Dove pensate meglio Oh, quindi torniamo La punta non è male In effetti Il materiale è metallo È un metallo colorato È gradevole È scorrevole ma non troppo Quindi fa un certo attrito Anche sul filato E quindi non ha il rischio Per esempio Che il filo vi scappi via Anche con i filati più scivolosi Devo dire che per quanto riguarda Il ferro In effetti non è malissimo Il cavo è una tragedia Cioè è una tragedia Sono diventata matta Per fare il campione E oltretutto È fissato In questo modo barbaro E fa uno scalino mostruoso Sono diventata deficiente A fare questo campione Veramente Io questi li prendo E li getto Ve lo dico Ve lo dico I ferri di Tiger Allora Prendo in considerazione Anche questi Perché tutto sommato Si trovano E quindi Ho detto perché no Allora Il Si trovano solamente Ferri circolari Fissi Per cui non Ovviamente intercambiabili L'attacco Sul cavo Non è malissimo La mano È bella liscia Credo che sia legno Ma non lo so Forse bambù Tinto Non lo so Sinceramente non so Il materiale Delle punte So che sono Tragicamente spuntate E il ferro E il cavo È piuttosto Duretto Non è durissimo E assomiglia Vagamente Al cavo In acciaio Della Chiaogo Per cui Non è proprio Tra i miei Preferitissimi Però c'è di peggio Come cavo Per cui Non è malissimo Il problema Sono le punte Che sono spuntate Io devo dire la verità Con questi Non lavoro bene Per niente Proprio per via Della punta Che non esiste Arriviamo Ai Pony Allora Questi non sono Pony Li ho messi qua Come Esempio Del fatto Che una volta Lavoravo anch'io Con i pony Li ho dati Tutti quanti via Credo di averli Proprio gettati E questi qua Sono gli ultimi Che mi sono rimasti Non sono pure Nemmeno pony Sono aero Ma Ecco Li ho tenuti Perché sono Una misura 10 E io non avevo Misure 10 E ci ho comprato Questi I pony Cosa dire Ragazzi I pony Sono i grigioni Che troviamo Praticamente In tutte le mercerie Che ci siamo Trovati Propinati Per anni Quando non avevamo La possibilità Di trovare Materiali Migliori E quindi Presi Dalla disperazione Abbiamo usato I pony E chi non l'ha fatto Lo confessi Per favore Allora Vabbè Cosa ve ne devo dire Male su tutti i punti di vista Male perché sono spuntati Perché il materiale Non scorre Perché l'innesto Sul cavo Allo scalino E quindi Il ferro Si incastra In continuazione Quelli più Questi qua In particolare No Ma gli altri Hanno anche l'angolo Per cui Una tragedia Ma il cavo Ha una memoria D'elefante Per cui Veramente Si arrotola In continuazione Rendendo difficilissima La gestione Del filo Certo Ho lavorato Una volta Con loro Certo Se posso Evitarlo Lo faccio Se proprio Non ho altro Uso quelli E vabbè Però ti fanno Praticamente odiare Il lavoro a maglia Quindi non li consiglierei Niente al mio Peggior nemico E passiamo E passiamo Alle novità Le novità Della Prim Signori Della Prim Parliamone Signori Della Prim Cioè Perché Perché Allora Il cavo Il cavo Non è male Cioè io qua Lo dico E non è niente Affatto male E resistente E di metallo E però Però è bello morbido Flessibile Leggero Quindi per fare Il magic loop È veramente fantastico Qual è il problema? Prima del problema La sezione Dei ferri Che sono di plastica Tengo a dire E triangolare Quindi ha anche Un'impugnatura Piuttosto interessante Ergonomica E quindi Qual è il problema? Parte 2 Questo Vedete la punta? C'è una pallina! Chi l'ha messa qui? Chi l'ha messa? Cioè Perché? Perché una pallina Sulla punta del ferro Quando dovrebbe essere Bello affilato Per infilarsi Dentro le maglie? Dicono che così Il ferro Si Non Praticamente Non divide il filo È la follia Io ve lo dico Ve lo dico Questi qua Sono Credo I peggiori In assoluto Forse non proprio In assoluto Ma veramente Non so come Posso essere venuta in mente Un'idea del genere Di mettere una pallina Sulla punta di un ferro Non vi dico Per fare il campione Io sono diventata deficiente A parte che non è vero Che non si divide Il filo Non solo lo divide Ma lo arruffa Come Cioè Lo Lo Arruffa Per cui È terribile Veramente Questi qua Vanno assolutamente Nell'immondizio Forse li tengo Perché Così Un reperto Perché spariranno Presto Mi auguro Bene So che in giro Se ne trovano altri So che in giro Si trovano Per esempio I ferri Della Lidl Che sono Come i poni I grigioni Ma Non sono nemmeno Lisci Per cui Sono anche Ruvidi Per cui Il filo Nemmeno scorre E Diciamo Cosa bisogna dire Di questa cosa No Non li neanche Prendiamo in considerazione Come Nemmeno Prendiamo in considerazione Tutta quella Tonnellata E miliardata Di ferri Cinesi Che si trovano Su Amazon E che compri A 5 euro 24 paia Di ferri No Cioè io non ho preso in considerazione Questi ferri Anche perché Voglio dire Vabbè Spendi 5 euro Ma poi Cioè cosa Lascia il tempo che trovi In pratica sono dei tubi Con dentro Infilato Un ferro Di pessima qualità E quindi Non li ho neanche presi In considerazione E Naturalmente Come abbiamo Sempre detto Tutti questi Oltre a Questo video Oltre ad avere La mia opinione Assolutamente Personale Non è un video Sponsorizzato Tutti i video Tutti i ferri Mi sono Li ho comprati io Oppure Mi sono stati O prestati O regalati Ma proprio come regalo Per cui Nessuna azienda Mi ha detto Cosa dire O cosa non dire O Assolutamente E sono opinioni Mie personali Voi siete naturalmente Liberissimi Di farvene Le vostre Io spero Che vi siate divertiti Spero che Questi tre video Vi siano piaciuti Vi siano stati utili E noi ci vediamo La prossima E mi raccomando Sferruzzate Più che potete Ma con un ferro Ottimo E noi ci vediamo E noi ci vediamo